Non mettere il 76, io lo metto anch'io E io lo metto EEEE QUANTE Ma per caso tu hai i 120 di qui? Che cazzo è? E salve a tutti ragazzi Oggi faremo lo spacchettamento delle ceste Porca troia EEEE EEEE UNOORO FINITA Allora noi è veramente bello educato Fatti i cazzi tuoi Fatti i cazzi tuoi Fatti i cazzi tuoi Fatti i cazzi tuoi Eh bello sto arancino BELLO A TUTTI RAGAZZI Raga ora inizia la partita Seri mi raccomando 12 secondi dopo Fatti i cazzi tuoi EEEE Ma se ho vedevo poter E' un po' di to' di me E' un po' di to' di me E' un po' di to' di me E' un po' di me AIA Ma perchè muori Ma io ci provo a curarti Ma tu muori E' colpa tua Ma se tu sei finocchio Mi che è colpa mia Sono un grande amante del pisa Scoop di di whoop Cazzo Buddha Ed Anche Mi fanno male le mani Cazzo Buddha guarda me Guarda me Jack Jack! Frusciante! E' uscito dal gruppo Ma perchè holler? Si è meglio il suo zio di roll Eheheheh Stai zitto te l'ho detto 6 volte mamma mia Ma stai facendo le frecce rosse Lupallino teme lupuneme MICHELE MAGLIOTATU LABIMI NO PLAVO BIELLO Ciao come va ciao come va ciao come va Shrek è un orco verde che vive in solitudine all'interno di una casa di legno in una palude che evita Accuratamente ogni contatto sociale sfruttando i pregiudizi nei confronti degli orchi da sempre considerati cattivi nonostante appaia scorbutico e solitario Shrek è realtà buono in un luogo poco distante dalla sua pal- Spasito su spotify In un luogo poco distante In un luogo poco distante dalla sua palude alcuni guardi di lord farquad stanno acquistando creature delle favole vendute da loro per vettare i 3 Si c'è il mulo Il mulo ciuchino al momento di essere venduto dalla sua padrona esce a scappare dalle guardie che lo inseguono E lui con la tua bella va alla tua bella Aspetta che c'ho gambero di sopra Gambero 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 Calimeme Calimeme Frasciutto Papà 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 L'ospedio Ah dammi su telefono Sos Ah 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 Ah! 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 Aia! PAPOLO DI STRISCIA! APPRO! ARRIVATO TUU! Ma no, non si dice, Andrea, si è offensivo. ALLORA, DA QUESTO MOMENTO IN POI, SHINOBBY SARA EL DIABLO. II PIDANICIAO SARA EL MATADOR. Pisi Noodle sarà El Fondina E Uombo Poldo sarà El Pancio Ma io volevo essere El Noodle E' l'anima dei mortacci tu e di che non dici órrido Ma che cazzo fai? Tu mamma è Zocla Oh no, no, no hombre perro Quanto anni hai? Stai tre e cinque anni di esperienza al campo lavorativo Mi niño è suo hermano perchè l'abuela non sta eseguifiendo ahahahahahahahahah oi perdukun danni o no comento a perchè non è sul suo ordenador? ès claro che si eeeh 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 nooo perchè mi perro sta qui? non lo intendo riuji non chendo come la eeeh rio gawakatae che ho curao oi tu merda pagaera hai bisogno di un sito web? con i- no eeeh bella napole nooo 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 ma da dove? mica se sto casa i can't play for snack 90 guardate c'è giubbotto 76 qua eeeh giro master master ah mi vanno meno di scrutto ah forca di amore ahah 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 se mi chiamo pasquale più a percentuale se mi chiamo checca più a stecca e se mi chiamo shuro ma bionda al culo e forse ti piace pure oh che c***o oh che c***o ahah ahah lo sai che ti dico Abbiamo vinto non ci credo Via Vai VIII Ohi te me Non metterti di metodo Adesso iniziamo a parlare con un piccolo modo Chi cazzo mi ha fottuto la kill porco giuda Eravate come bastazza bevuti ACHUUSH ABE Ciao Andrea Vengo stemine del cazzo Il sillino Dai dai che so stemine Che so no dai non puoi metterli Ma porca puttana Cazzo Ficco di vita Ora vengo da te Non che vero Va bene ragazzi allora animiamoci Così E invece no Non mi sparate da dietro Non mi sparate da dietro Non vale cazzo di buddha Sei un pisellone Suscribirsi al canale Bombopoldo es el mejor